Ciao a tutti, lui con la sua assenza mi sta mettendo alla prova? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. Ok, la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, lui con la sua assenza mi sta mettendo alla prova. Concentrati su questo lui, prenditi tutto il tempo necessario e dopodiché, diciamo, puoi anche stoppare il video e farlo ripartire, dopodiché sceglio la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché scelta la carta 1? Beh, diciamo di sì, ma è prevista una forte unione, quindi presto l'assenza si risolverà positivamente. Che scelta la carta 2? Non è che ti sta mettendo alla prova, è che vuole stare da solo, non ha voglia di stare con te, quindi isolamento. Che ha scelto la carta 3? È una persona che agisce d'impulso, quindi non è proprio la persona adatta, insomma, un po' libertino e quindi non vuole una relazione stabile. Che ha scelto la carta 4, ma potreste avere la forza per riconquistarlo, dovresti acquisire un po' di forza interiore e tutto si risolverebbe per il meglio. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!